Ecco, no perché sai qualche volta la politica italiana sapeva che sono un pochino più 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 grande diciamo che si dice più grande, non più vecchio Sì Sembra un'alternativa tra governi tecnici o personaggi tecnici che mettono a posto i disastri che sono stati fatti poi appena li hanno sistemati torna la politica per un po' di anni poi debito pubblico, spread Ah, rifai i disastri e poi torna Amato, Dini, Ciampi, Monti è tutta un'alternanza tra governi politici un po' pasticcioni e governi tecnici che cercano di sistemare le cose qualche volta fanno bene, qualche volta fanno male quindi il rischio che elezioni, quadro politico incerto è molto alto per il paese, la governance del paese prima di tutto secondo c'è il rischio pandemia che purtroppo continua ad essere strisciante e pervasivo tre, dal mio punto di vista ci metto il rischio energia perché se ne parla poco o se ne parla solo per vedere quanti soldi il governo stanzierà per alleviare la spesa per gli italiani ma adesso guardavo nella borsa elettrica il costo del kilowattore è stimato dieci volte quello che era il costo del kilowattore cioè l'unità di energia elettrica che consumiamo è stimato dieci volte quello che costava la media dell'anno scorso è stimato dieci volte Grazie a tutti.